Sta bene Thomas Madonia, il giovane ufficiale triestino a bordo della nave Diamond Princess, bloccata in quarantena in Giappone con oltre 600 contagiati da coronavirus. Non è dunque lui l'italiano risultato ieri positivo al test. Sulle sue condizioni di salute arrivano rassicurazioni dalle pochissime persone della cerchia familiare in costante contatto con il 26enne terzo ufficiale di coperta sulla nave da crociera. Anche oggi Thomas risulta irraggiungibile e il silenzio con gli organi di informazione sarebbe proprio un'indicazione data dalla compagnia ai membri dell'equipaggio. Di certo il giovane triestino, in quanto parte dello staff, non è tra i 22 dei 35 italiani a bordo risultati negativi ai test sul coronavirus e quindi di ritorno in Italia con un volo militare. Intanto oggi altre 79 persone sono risultate positive al coronavirus sulla nave ancorata nella baia di Yokohama in quarantena dal 5 febbraio scorso. La notizia è stata diffusa dal Ministero della Salute. Salgono così a 621 i contagiati in totale.